Grazie Presidente. Il no di Fratelli d'Italia alla fiducia non sarà un no al Presidente del Consiglio, ma sarà un no più che motivato e articolato al suo governo. Un governo contraddistinto, Presidente ce lo lasci dire, pur in questo clima di unanimità, da una sinistra e inquietante continuità con il governo che ci ha preceduto e che ci ha condotti sull'orlo del precipizio economico e sanitario. Un governo che anche in queste ore sta rappresentando tutte le deficienze, latitanze e carenze di cui parlava Fratelli d'Italia, che è i maggiori contraenti di questo nuovo patto di governo, passano il tempo più a fare dei distinguo l'un contro l'altro che a pensare come affrontare la pandemia, rassegnando, Presidente, nonostante lei, l'idea di una maggioranza per tribù l'un contro l'altra armata. Ci lasci dire che anche noi, Presidente, pur non condividendo l'assunto in forza del quale lei è diventato Presidente, ovvero sia che le elezioni sarebbero una pericolosissima tentazione golpista, ovvero sia che l'Italia è una democrazia di serie B che non può votare mentre tutta l'Europa ha votato nel 2020 e voterà nel 2021, ovvero sia che il popolo italiano è costituito da interdetti che non sanno scegliere i migliori perché i migliori verranno calati dall'alto, pur nonostante tutto ciò anche noi abbiamo atteso la lista dei migliori. Presidente, poi è arrivata la lista dei migliori, è arrivata, e fermiamoci, come dire, al suo tridente d'attacco, Di Maio Lamorgese Speranza, beh, migliori. Di Maio, quel migliore che a proposito del suo intervento, Presidente, sulla necessità di aiutare l'economia reale, è quel migliore, Di Maio, che nella legge di bilancio del 2021 trovava 5,3 miliardi per la cooperazione internazionale e solo 3,8 miliardi per le imprese interessate dalla chiusura per contrastare la pandemia, tradotto le imprese che Di Maio aveva chiuso per decreto valgono di meno della cooperazione internazionale. Di Maio, quel migliore che a proposito del suo intervento, Presidente, e l'ho ascoltato con un richiamo delicato ai nuovi poveri che si affacciano alla Caritas, bene, Di Maio è quel migliore che nella legge di bilancio ci sono, articolo 70, 40 milioni per derrate alimentari e generi di prima necessità per i nuovi poveri, ma ci sono 619 milioni di doni alla cooperazione internazionale, cioè a tutti i poveri del mondo tranne gli italiani. L'uoli lo ha alla sua destra, Di Maio. Ne approfitti magari per sussurrargli che quando lei parla di Mediterraneo allargato non intende allargare il Mediterraneo al sultano Erdogan, come ha fatto Di Maio in questi anni per inerzia, incapacità e latitanza della nostra politica estera. Ne approfitti per spiegare a Di Maio almeno il concetto geografico di atlantismo. Capisco, Di Maio fatica a trovare sulla cartina geografica italiana Matera, ma vedere dov'è la Cina e dov'è l'America è facile a tutti noi. E allora glielo sussurri nell'orecchio, perché io sono sicuro, fratelli d'Italia, è sicura che il suo appello all'atlantismo è sincero, è genuino, però le possiamo anche dire che rischia di suonare falso, retorico e distonico se il ministro degli esteri rimane il campione della Cina in Italia, il rappresentante di quel movimento che ci ha consegnato mani e piedi alla Cina sottoscrivendo la via della seta che per noi è via della sottomissione. Alla sua destra un altro migliore, la Morgese, quel migliore che ci sono 70.000 poliziotti più i droni per controllare gli italiani mentre triplicano gli sbarchi sulle nostre coste, quel migliore che quando parla di infiltrazioni critica le manifestazioni di quattro commercianti e non pensa alle infiltrazioni denunciate dalla DIA nell'economia reale da parte della criminalità organizzata per mancanza di liquidità che il suo governo non ha dato. Altro migliore speranza, quello in cui i neuroni concepiscono solo le chiusure per affrontare l'emergenza pandemica. Colui che studia giorno e notte lunari e marziani codici a teco per chiudere le attività piuttosto che protocolli di sicurezza per farle riaprire. Colui, e vado alla conclusione, che appena è stato reinsediato ne ha approfittato per flagellare nuovamente gli impianti scistici e gli imprenditori. Ebbene, Presidente, concludo, noi non abbiamo la presunzione di essere i migliori ma sappiamo chi sono i peggiori e la storia di questo anno si è incaricata di certificarlo. Sono tutti lì, se nonostante i peggiori che ha nella sua pancia. Lei saprà distillare buone idee per l'Italia. Noi ci saremo distinti e distanti, come sempre dai peggiori, per coerenza e serietà, ma sempre al fianco dell'Italia. Grazie, Presidente.